Fra una portata e un'altra i piatti saranno raccontati e la musica non farà da cornice ma sarà un elemento di lettura di quello che è successo in tavola e in cucina. Un'estate tra gusto e musica nella splendida cornice di Piazza Grande è infatti Camu assieme a due ristoranti e rettini ad offrire due appetitosi appuntamenti, due cene scandite e commentate da interventi musicali e letture in programma per il 22 e il 29 luglio. La prima sera il 22 luglio sarà dedicata alla musica di Mozart e però ci saranno anche degli inserti di carattere letterario andando invece a pescare Rodari e Palazzeschi. Abbiamo individuato questi due attori che in qualche maniera come in cucina si abbinano ingredienti diversi, in questo caso tutti e due ci sembravano scherzosi e giocosi, cioè Mozart, Palazzeschi e Rodari e tutti saranno eseguiti da un trio classico, il trio Figaro. La seconda serata, il 29 luglio invece, sempre dal punto di vista musicale, gli ingredienti sono quelli della Fisa Armonica, quindi uno strumento popolare che però rivisiterà dei compositori contemporanei come Arvo Part e il minimalista Philip Glass. Il tutto sia il 22 che il 29, sapientemente raccontato dalla voce in presenza di Silvia Martini. Ad ospitare due appuntamenti la Fraternita dei Laici sulla straordinaria terrazza dell'omonimo palazzo. Noi abbiamo una grande tradizione culinaria e gastronomica nella nostra terra di Arezzo, nella nostra città, che viene anche rappresentata molto bene e realizzata molto bene dai nostri ristoratori. Questa è una nostra carta vincente che va proposta. Occorreva trovare anche una cornice dove poter riproporre il nostro piacere, la nostra tradizione gastronomica. La cornice è la terrazza di Fraternita che è stata, come vedete, restaurata, ha un basamento ormai di travertino e vorremmo concludere anche questa terrazza, questa bellissima terrazza, con il rifacimento anche della scala che dalla piazza immette nella terrazza e vorremmo che fosse anche questa di travertino.